Cioè io mi aspetto una scarpa così con la fibra di carbonio, secondo me fanno una scarpa super. Una delle certezze che ho nel mondo della corsa è che ci sono scarpe che evolvono nel tempo lentamente, mentre altre che lo fanno in maniera molto rapida. In questo caso parliamo delle New Balance 1080 V11, l'evoluzione è stata rapidissima per molti anni, invece nell'ultimo periodo la transizione tra il modello 10 e il modello 11 è stata abbastanza lenta. Se ci pensate queste 1080 V11 uscite un mese fa e facenti parte della collezione premium dell'azienda New Balance, azienda americana di Boston, solamente nella versione 8 pesavano 314 grammi, mentre ora siamo scesi addirittura a 269. I cambiamenti rispetto al modello 10 sono veramente minimali, squadra che vince non si cambia, la versione 10 è andata ad avere incontro ai favori dei podisti amatori italiani. Versione 10 che abbiamo raccontato qui sul canale, ve la leggo qua sopra nel caso foste interessati, ne abbiamo fatto una prima recensione e poi una recensione dopo 600 chilometri. Per vedere cos'è cambiato partiamo come al solito dalle specifiche, sappiate che come ho già detto la scarpa è nel modello US 9 42,5 europeo di 269 grammi, un po' meno rispetto a quello che invece viene dichiarato a livello di press release. Ha un differenziale 8, 30 mm nel tallone e 22 mm nell'avampiede. Questa New Balance 1080 appartiene alla linea Fresh Foam X, ossia la collezione premium dell'azienda americana. Collezione premium che include alcune delle scarpe più esclusive del brand e di cui questa 1080 rappresenta l'essenza perché, secondo l'azienda americana, è una scarpa che offre il miglior confort e la migliore espressione di ammortizzazione ad ogni passo e chilometro, garantendo una performance e ergonomia ottimale. Così si è posizionata New Balance quando ho lanciato questa 1080 V11. Ma cos'è cambiato rispetto a 12 mesi fa? Sostanzialmente molto poco. Da un certo punto di vista la Tomaya Nippo Knit è diventata ancora più strecciante. Questo Knit offre davvero un supporto, una calzata morbida, con un focus sulla traspirabilità e sull'elasticità zonale, ossia in alcune zone lo stretching è diverso rispetto ad altre. Questa scelta di rendere la Tomaya più elastica per consentire una maggiore capacità di movimento, vediamo che impatto ha sulla corsa, ne parlerà in dettaglio il pro depodista. Gli lascio la possibilità di esprimere il suo parere in maniera dettagliata. Sappiate però che il vostro piede sarà comodo e confortevole grazie davvero a questa Hypo Knit, che per alcuni, ma non per tutti i podisti amatori, è sicuramente preferita. Dal punto di vista del design del tallone, presenta un Ultra Hell, come al solito, molto morbido nella parte superiore, molto più rigido nella parte inferiore. La conchiglia è stata ridotta leggermente rispetto all'anno scorso, anche perché molti dei podisti amatori avevano sottolineato il problema al tendine di Achille. Questo problema, non so dirvelo, potrebbe crearsi ancora con questa tipologia di conchiglia, però sicuramente l'azienda di Boston ha indicato che questo nuovo design dovrebbe sicuramente migliorare il modo di porsi rispetto a quanto era stato fatto l'anno scorso. A livello di intersuola, parliamo del Fresh Foam X, che è una delle migliori intersuole presenti sul mercato, è disegnata con degli esagoni convessi e concavi asimmetrici che danno sicuramente un design premium e consentono una corsa fluida combattendo le forze multidirezionali, così come, sottolinea la casa americana, sappiate però che il design complessivo costringe e impone al podista amatore una sorta di instabilità dovuta alla combinazione di altezza dal suolo, alla conchiglia un po' lasca, alla tomaia leggermente troppo flessibile, oltre ovviamente al Fresh Foam X, ma tutto dipenderà dal vostro modo di correre. Immaginate però che l'instabilità sarà funzione della vostra biomeccanica di corsa e in questo caso, non essendo nei vostri panni, sarà per me difficile dirvi se questa scarpa di per sé è davvero instabile. Per quanto riguarda il battistrada, è questa una delle parti più dibattute nella scarpa, presenta vari componenti, da un certo punto di vista, nella parte superiore e inferiore del tallone, la suola in gomma è davvero molto dura, quindi chi atterrerà di tallone sicuramente non avrà problemi, per invece chi atterra di mesopiede dove la gomma è molto più morbida o anche nella parte centrale dove non c'è proprio gomma, invece viene utilizzato a contatto con il suolo, il Fresh Foam X, sappiate che la situazione potrebbe variare e vi ricordate che avevo raccontato il discorso del Cadence e nel Stride Runner, dipende dal vostro modo di correre, potreste avere con una probabilità non nulla una situazione in cui questa scarpa dopo solamente 400 chilometri avrà problemi a livello di battistrada, perché la durata del battistrada potrebbe essere ridotta e inferiore rispetto ad altre scarpe. È importante sapere che non condivido a fondo quello che dice il prode podista nella recensione, e può darsi che comunque il prode podista abbia ragione, io aspetterò ad arrivare a 400 chilometri, anche perché il mio modo di correre è sostanzialmente diverso. Se siete interessati a fare una prova, vi allego qua sotto dei link per l'acquisto, ovviamente nessun impegno, ed ora lascio la parola al mio collaboratore, dottor Soffientini, che come al solito bombarderò di domande dal mio giardino di casa, domande su una delle scarpe più interessanti del 2021, non so se sarà d'accordo con me, comunque sappiate che sia un termometro cinese che un termometro tedesco ci indicano che potrebbe essere giunto il momento di andare a correre, nel frattempo stay strong e keep running, ora vado a bermi un coffee, poi vado a correre, l'ho intervisto e ci vediamo alla prossima. Andrea, buongiorno, spero tutto bene. Ciao Max, tutto a posto? Sì, si fa freddo ancora. No, la temperatura dice 17,7. No, la temperatura di prima è al sole, all'ombra ce ne saranno 10. Ma il coniglio però sta comunque abbastanza bene, dai direi. Però mi ha un sacco di pelo, che io non ho. E oggi testiamo, dopo che abbiamo fatto l'unboxing qualche giorno fa, le New Balance 1080 V11. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ma sostanzialmente a vederla così, a dire V10 o V11 non saprei dirti. Quindi è molto simile al modello precedente, è cambiata davvero poco come scarpa. Secondo te a chi sono adatte? Sempre allo stesso pubblico delle V10 oppure è diminuito il range di utilizzo? Ma forse un pochino è aumentato, perché comunque la Tomai è diventata un attimino più contenitiva, diciamo. Quindi poco poco di più della New Balance 1080. Mi sono reso conto che però è stato un grosso difetto della 1080 V10 e adesso è comunque un difettino della V11 che è stato migliorato e che comunque davvero la Tomai è troppo ballerina. Quindi in questo caso secondo te è migliorata? È migliorata assolutamente, però secondo me gli manca ancora qualcosa, perché il tallone è troppo morbido e poi si sente durante la corsa e anche l'avampiede è molto lasso. Secondo te a chi sono adatte queste scarpe quindi? Guarda, sarebbero una scarpa secondo me per gli oversize anche, quindi anche sopra gli 80 kg secondo me si potrebbe utilizzare, ma c'è quel grosso problema della Tomai che poi la rende abbastanza instabile, quindi sia sempre lì. Hanno fatto una scarpa con un'intersuola super ammortizzata, super morbida, super comoda, ma che poi può essere utilizzata secondo me sotto i 75 kg, se non 70 perché diventa abbastanza instabile e poi se c'è qualche difetto di pronazione. Sì, bene, abbiamo visto nei calcoli, nella misurazione di RunScribe che è abbastanza più instabile rispetto alle altre, quindi sono assolutamente d'accordo con te. E per quello che riguarda le distanze cosa dici? Cominare un mio amico è se scarpe da distanzina, quindi sono tutti i lenti di tutti i giorni, più comunque le corse lunghe diciamo. Non è una scarpa da velocità, non è una scarpa da velocità, secondo me è dato sempre da questa tomaia un po' ballerina perché alla fine la schiuma è molto reattiva però davvero fai fatica a portarti dietro la scarpa e sembra quasi che la perdi per una tomaia così. Ci correresti quindi anche due ore? Bella domanda, perché comunque impegna un po' il tallone, davvero anche se è migliorato, però un po' la zona del tallone e tenine d'Achille è un po' messa sotto torchi dopo un po' di ore che ci si corre sopra. Bisogna un po' valutare. Io sì, ho fatto fatica ai tempi a portarle sopra l'ora e mezzo, l'ora e quaranta. Comunque dopo qualche dolorino lo sentivi di più, al polpaccio. Legato al discorso della tomaia suggerisci lo stesso numero o mezzo numero in meno? Ah, ecco. No, sì, anche lì da valutare perché io la prenderei mezzo numero in meno qualcuno è stranissima, qualcuno con lo stesso numero sembra enorme, col mezzo numero più piccolo sembra piccolina. Non lo so, però io comunque se la dovessi prendere la prenderei mezzo numero più piccolo. Infatti a me il quaranta e due e mezzo mi sta bene e invece il quaranta e tre mi è solito. Nel dubbio quindi mezzo numero in meno, però per chi può ovviamente suggeriamo di provare. Sì, no, sicuramente è una scarpa da provare, però sì, andrei di mezzo numero più piccolo, mezzo numero americano più piccolo. Il video dell'anno scorso di fine vita di questa scarpa raccontava praticamente che il battistrada, almeno sul tuo modo di correre, si consumava abbastanza rapidamente. Cosa ne pensi di questa nuova battistrada e cosa ne pensi rispetto a quello dell'anno scorso? Allora, questa non l'abbiamo ancora portata a fine vita, anzi, però ho già visto che il problema è rimasto e ti dirò che non è il mio modo di correre, ma ho visto che su tante altre recensioni si lamentavano proprio della scarpa che si piallava in una maniera esagerata. quindi anche lì non ho capito, qua sono molto in disaccordo perché fanno delle scarpe da 180 euro di listino, mi sembra questa, 160-180 che si distrugge praticamente dopo 350-400 chilometri la suola, quindi non lo so, l'avrei fatta di un materiale un pochino più resistente e duraturo. E' anche vero che tu sei un po' di stamattore evoluto che imprime forza sulla tua corsa e di conseguenza, pur pesando di meno, comunque la forza impressa sul battistrada è più importante. Ma te l'ho detto però, ho visto altri che le han conciate uguali e poi ti dico che stanno uguali per me che per gli altri, quindi pretendo che una scarpa mi duri di più come suola rispetto a queste. Poi se vuoi lo tagli, se no lo lasci, battistrada e fa cagarissimo. Secondo te Andrea quali sono le scarpe simili? Mi sto facendo distrarre il coniglio ma che peraltro sta arrivando da te, ti sta mangiando la tua tomaia, ma che assomigliano a questa scarpa? Beh, la 1080 V10 sicuramente, poi c'è la Invincible Run, anche se lei era, è molto simile perché comunque ha tanta ciccia uguale alla Tomajan Flyknit, però la Invincible era un pochino più larga di InterSwall, l'InterSwall era più larga, aveva più spazio, più aria, quindi erano più stabili, oppure mi vengono in mente le Ultra Boost 21, ma questa è comunque un pochino più filante e sicuramente più leggera, o almeno a tenerla in mano mi sembra nettamente più leggera, l'Ultra Boost mi viene da avere in mente un mattone. Abbiamo misurato 269 grammi e la domanda che ti pongo è, a livello di InterSwall, cosa ne pensi di questo Fresh Foam e soprattutto ti sembra, tra virgolette, comodo nella corsa oppure no? No, no, assolutamente, come il Fresh Foam X questo, è giusto, sì, perché anche se non c'è scritto, sull'altra c'era scritto che era l'X, però sì, è praticamente identico alla V10, mi è piaciuto tantissimo, non è a livelli dello Zoom X, ma è un'ottima schiuma ed è super reattiva, quindi, cioè, io mi aspetto una scarpa così con la fibra di carbonio, secondo me fanno una scarpa super, forse da alleggeri ancora un attimino di più questo Fresh Foam X, però non è per niente male come materiale, mi piace tanto, mi piace tanto e la vorrei vedere su una scarpa con una tomaia un pochino più, ancora più resistente per renderla più stabile. Nei prossimi giorni faremo ulteriori confronti e soprattutto nuove recensioni di scarpe New Balance che stanno, tra virgolette, arrivando. Cosa ne dici del tallone? Che sensazioni ti ha dato? No, l'ho detto anche prima, è un pochino più stabile dell'altro, ma anche lui troppo lasso e quindi non è preciso e poi mi dà dei problemi, tra virgolette, di sovraccarico perché mi balla un pochino il piede dentro e quindi si stanca di più. Quali sono, secondo te, i pregi e difetti di questa scarpa? Il grosso pregio di questa scarpa è il Fresh Foam X e quindi se la dovessi coprare la ricoprerai solamente per quello e invece i difetti sono la tua maia che è comunque migliorata rispetto alla V10 ma è comunque troppo morbida e il battistrada che si pialla o si piallerà comunque molto presto. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, spero che tu possa gareggiare nei prossimi giorni. Vedremo. Ormai si vede la luce in fondo al tunnel. Ma dici che correrai in pista con le chiodate oppure? Per forza, con le altre non si può più correre, adesso soprattutto in regione Lombardia ci stanno controllando, quindi a parte che ormai è uscita la regola e dobbiamo rispettarla, quindi via di chiodate. Va bene, grazie Andrea, ciao alla prossima. Ciao alla prossima. Ciao.